Come potete vedere dietro le nostre spalle e non solo dietro le nostre spalle, ci sono tutti questi capannoni, questi ruderi che sono pieni di questi rifiuti e non solo sacchi della spazzatura ma sono un'enormità di rifiuti. Sembra addirittura un'operazione sistematica avviata nel momento in cui i cancelli di questa ex porcilaia erano aperti, come diceva il nostro amico Antonio l'estate scorsa, un'operazione sistematica studiata per abbandonare qua di tutto di più. Ma la cosa che mi fa pensare, mi fa riflettere e mi fa anche un po' rabbia è che noi siamo giustamente obbligati a fare la raccolta differenziata, a stare attenti perché è giusto che ci sia una raccolta differenziata per separare il riciclabile da non riciclabile. Ricordo anche che veniamo multati se noi non ci occupiamo in maniera corretta di fare una raccolta differenziata. E poi dietro casa abbiamo questa raccolta che non saprei neanche come definirla, non è solo indifferenziata, è selvaggia, è barbara. E le istituzioni, in questo caso il sindaco Antonio Fusecchi, il sindaco di Melso a guida centro-sinistra, che è stato fortemente sostenuto da quattro liste civiche e si è insediato nel 2017, credo sia a conoscenza di tutto quello che c'è qui dentro perché non può non esserne a conoscenza. E la risposta ai cittadini qual è? Qual è la risposta del sindaco di Melso a questo degrado, a questo scempio, a questo abbandono, a questa desolazione? Ed è proprio dietro casa nostra. Quindi perché continuare a negare l'evidenza? Perché continuare a lavarsene le mani come Ponzio Pilato e a non assumersi la responsabilità di questo? E' anche la responsabilità di quello che si vocifera dal 2005, non sono solo voci, ma sono indagini di ARPA che segnala un forte rischio di contaminazione perché nei cunicoli sotterranei di questa ex porcilaia, che ormai in gran parte sono a cielo aperto, è concreta la presenza di amianto. Quindi devono essere bonificati, sono stati bonificati solo in parte nella sede principale della Galbani e non qua. Quindi oltre alla spazzatura abbandonata c'è anche un forte rischio di contaminazione di amianto e ricordo che l'amianto porta una grave forma tumorale che si chiama mesotelioma.